239 giorni, questa la durata media di un procedimento civile in tribunale ad Arezzo, ben al di sotto della media nazionale di 389 giorni, meno invece di quella record del Nord Italia. A stilare la classifica sui tempi della giustizia è stato il sole 24 ore, che ha elaborato i dati del Ministero della Giustizia e ha reso note adesso le tempistiche relative all'anno 2018. Nei tribunali del Nord la media è dunque di 8 mesi, in quelli del Sud un anno e mezzo, nel centro invece 13 mesi. Ad Arezzo un processo civile dura attorno ai 9 mesi. In Toscana c'è una città ancora più veloce di Arezzo, si tratta di Livorno, con una media di 197 giorni. Fanalino di coda della regione è Grosseto con 453 giorni, ovvero poco più di 15 mesi, dunque quasi il doppio di Arezzo. A stabilire la durata dei procedimenti, secondo l'analisi del sole 24 ore, non è però solamente la geografia. I tempi infatti cambiano molto anche in base al tipo di causa. Si passa infatti dai 22 giorni necessari in media per un decreto ingiuntivo di lavoro ai 527 per una controversia in materia di locazioni, fino addirittura ai tre anni in media per ottenere una decisione di primo grado quando l'oggetto della lite è un contratto bancario.